Sir Filippi, che cosa non vi garba di questo bilancio che presenteranno in comune nelle prossime ore? Sì, purtroppo il sindaco e questa maggioranza stanno mettendo ai cittadini fanesi la vera verità, nel senso che questo è un bilancio preventivo di solo fumo negli occhi, che illude purtroppo tutti i cittadini, anche perché a detta del sindaco tutti i capitoli effettivamente aumentano nei capitoli di spesa, sport, turismo, ma uno non è vero che raggiungono i livelli due anni fa, parlo dello sport perché sono stati tagliati ancora una volta 50.000 euro di contributo alle società che gestiscono gli impianti. Inoltre hanno gonfiato le entrate comunali e questo permette sia di sbloccare fondi nel bilancio corrente, quindi spese minute, sia investimenti in conto capitale. Hanno gonfiato il bilancio del comune di circa 117 milioni di euro tra entrate e uscite, l'anno scorso era 13 milioni di euro in meno, quindi pensate quanto sono state gonfiate le somme, veramente ci sono 6 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea e entrate varie dall'Unione Europea, quindi è un capitolo generico. Bene, detto ciò, noi come consiglieri di minoranza abbiamo presentato 12 emendamenti perché crediamo che anche con questo bilancio si potrebbero fare delle iniziative che sono state accantonate da questa amministrazione, parlo di 100.000 euro per l'affano dei Cesari e 50.000 euro del carnevale estivo che noi abbiamo proposto di inserire all'interno di questo bilancio che attualmente non ci sono. Quindi il turismo ancora una volta vede due manifestazioni cari nell'estate esserne privo. Stessa cosa, lo sport, quindi 50.000 euro in più per lo sport. Abbiamo proposto più soldi ai parchi e ai cittadini perché comunque le esigenze maggiori sono quelle dei parchi, quello delle strade, abbiamo proposto 100.000 euro in più delle strade. Da dove prendiamo questi soldi? Dall'aumento della comunicazione istituzionale del sindaco rispetto all'anno scorso più 16.000 euro, dall'aumento del personale a tempo determinato assunto dal sindaco, quindi su incarico fiduciario del sindaco che continua ad aumentare, dall'avvocatura per il quale il Comune di Fano spende centinaia di migliaia di euro e anche da tutti quegli incarichi e quelle consulenze che questa amministrazione in questi anni continua a elargire a destra e manca. Io spero che la maggioranza abbia un occhio di riguardo al di là delle, diciamo, naturalmente delle prospettive fumose del sindaco e di questa maggioranza, abbia un occhio di riguardo per le nostre proposte che abbiamo fatto, perché ci sono dei capitoli di spesa del turismo, dello sport, del verde e delle strade che sono urgentissimi e spero che vengano approvate.